Buonasera a tutti e benvenuti. L'Italia potrebbe di nuovo chiedere l'estradizione al Brasile per quanto riguarda la figura di Cesare Battisti. L'estradizione è un procedimento dove uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un cittadino o comunque di una persona che ha commesso nel primo Stato determinati reati passati in giudicato. In buona sostanza l'Italia, posto che Cesare Battisti, scrittore ma anche terrorista o comunque appartenente ai proletari armati per il comunismo nei fatidici anni di piombo, fine degli anni 70, giudicato in Italia con sentenza irrevocabile, viene richiesto nei confronti dell'autorità brasiliana per essere estradato, cioè per essere riportato in Italia dove potrà scontare la pena. Di questo se ne era già parlato qualche anno fa. Consideriamo che già nel 2011 il Presidente Lula uscente, l'ultimo giorno del proprio mandato, dichiarava Cesare Battisti rifugiato politico, in questo modo impedendo e negando all'Italia la possibilità di estradarlo. Ora vi è di nuovo che qualche giorno fa lo stesso Cesare Battisti viene condannato da una corte federale brasiliana per un reato legato alla deportazione, legato a documenti falsi o a quanto altro, reato che comunque verrebbe a comportare l'espulsione dello stesso Cesare Battisti in altro Stato. Per fare questo si sono prodigati immediatamente le autorità consolari italiani nel dire bene, vorremmo che il Battisti venisse da noi per scontare questa fatidica pena. Sta di fatto che però l'espulsione non significa consegnare Battisti all'Italia, ma significa consentirgli di uscire da quel paese per andare in altri paesi disposti ad accoglierlo. Ricordiamo che già al tempo la Francia si era dimostrata un paese ospitale per il Cesare Battisti, pare di sì anche il Messico, si vedrà quello che poi questi paesi decideranno di fare e allo stesso modo si vedrà quello che sarà il comportamento dell'autorità consolare italiana che con forza ribadirà quanto già richiesto in tempi passati. Ora una breve valutazione di Cesare Battisti perché per i più nasce nel 54, è protagonista degli anni di piombo, ripeto con questo gruppo proletari armati per il comunismo e a detta dell'autorità giudiziaria italiana si è ritenuto responsabile per diversi reati gravi. Parliamo di rapine, parliamo di rapine a scopo di sequestro, parliamo di omicidi. È anche vero che la vita di Cesare Battisti è una vita sicuramente burrascosa, avventurosa in senso criminale, in senso politico, in senso così legato a vicissitudini e a difficoltà nel rapportarsi con l'autorità o quanto altro. È una vita sicuramente votata non certo alla tranquillità, tant'è che se solo pensiamo che nel 2000 e nel 1979 Cesare Battisti viene arrestato e viene tradotto anche in un carcere a Frosinone per l'omicidio di un gioielliere e poco tempo dopo evade da questo carcere e si reca in Francia dove poi rimarrà sino al passaggio presso lo Stato del Brasile. Ora è difficile poter parlare oggi di responsabilità accertate o meno perché ai tempi di questo storico processo gli avvocati della difesa di Battisti hanno invocato a difesa del loro assistito problematiche relative a confessioni storte con la violenza, altre problematiche riferite a pentiti che non sono risultati attendibili, altre problematiche riferite a rilievi scientifici non concordanti. È la difesa, allo stesso modo l'Italia lo accusa di diversi omicidi e lo rivuole indietro per fare scontare la pena. Ora ciò che è certo, ciò che è assolutamente indiscutibile sino a prova contraria è che stiamo parlando di una sentenza passata in giudicato e pertanto una sentenza che deve essere eseguita e sarà anche un po' imbarazzante vedere quello che potrà fare il governo italiano che da sempre ha cercato di ricondurre a sé il Battisti nei confronti di altri Stati che pare lo considerino per un motivo o per un altro un rifugiato politico. Grazie.